Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'Italia è alle prese con la seconda ottobrata della stagione e dunque clima mite e tempo stabile. Vediamo il dettaglio di mercoledì 19. Sul Veneto iniziamo col dire che non si verificheranno precipitazioni. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, un po' dappertutto. Sulla pianura nella prima metà di giornata varie nebbie di notte, in dissolvimento poi di mattina. Temperature stazionari e minime tra 11 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 22 e i 24 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere è sereno, salvo per locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde. Temperature minime sui 12-15 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, bel tempo soleggiato, solo con qualche occasionale annuvolamento, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno agli 8-14 gradi, massime intorno ai 24 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.